Ciao, buongiorno, sono Gianluca Spadori. Allora, piccola confessione, visto che sono online dalla mattina e dalla sera, un filo corto di temi sono, lo dico, anche perché siamo a 28 di retto con quella di oggi pomeriggio, però una domanda ce l'ho e poi non voglio interrompere una tradizione che va avanti da 4 anni ormai, bellissima dalla mattina, so che alcuni di voi si svegliano guardandomi o comunque condividendo questo momento, la domanda è questa, qual è la canzone che ti accompagna in questa fase particolare, voi lo sapete che noi funzioniamo per associazioni di emozioni rispetto alle sensazioni e quindi io so che c'è una canzone che stai associando a questo momento, non so se è una di quelle che gira in radio, non so se è una particolare tua, non so se metti la playlist della depressione oppure se usi qualche canzone che salva, se vuoi ti confesso qual è la mia, la mia è niente paura, di liga ovviamente, la canzone di liga niente paura, soprattutto la seconda strofa, il ritornello è quella che più spesso ho riascoltato in questi giorni, niente paura ci pensa la vita, mi hanno detto così, c'è sempre qualcosa di dopo e c'è sempre qualcosa di buono che arriva, niente paura, la tua qual è? Me lo scrivi? Me la metti qua nei commenti, facciamo un po' la playlist di questo momento, no depressione, vi prego no depressione, dai, dai che ce la facciamo!